Ebbene a tutti ragazzi, sono Fabio J e oggi siamo in un nuovo vlog. Oggi volevo solamente salutare un amico mio, sulla Play che mi aveva chiesto di salutarlo, si chiama Leopop997. Si mi ha chiesto di salutarlo perché come io ho detto che a lui tra poco partirò e non ci potremo vedere, quindi farò un video vlog così ci potremo sentire per via di telefoni, computer, queste cose qua. Quindi questo breve video era solamente per salutare questo mio amico che è il migliore che mi potesse capitare, l'amico migliore che ho mai avuto. Quindi ciao ragazzi!